like the hell cat ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ho fatto un mazzo odioso raga guardate questo mazzo raga ne ho appena vinta una e ho deciso di portarvelo sul canale perchè raga è odioso tipo io ti metto la scintilla il pecca però devo averlo il pecca perchè se no tipo metto il barile bovin che ne so io la principessa mettiamo pure la fireball tanto che fa ti fa niente di male mettere delle fireball a caso per esempio mettiamo la principessa e lì ho messo proprio mi serve subito il mio pecca bello bello allora con il pecca oddio io come faccio a fermare sta cosa vorrei saperlo precisamente raga no vabbè raga ok ci ha fatto una torre ci ha fatto una torre e qui niente di male c'è ci ha fatto una torre ovviamente ci fa a tutto per counterarci raga quello di prima non aveva niente per counterarci adesso questo c'ha tutto boh io mi chiedo vabbè noi mettiamo adesso la scintilla di qua questo dobbiamo mettere tutte cose basse così ci arriva il pecca però non lo posso ammettere dai prima aveva funzionato stra bene cioè non capisco prima aveva funzionato bene io non capisco ma aveva funzionato un botto bene adesso non va più è persa raga questo c'ha tutto per counterare il pecca adesso mi è rotto oh ma il pecca non me lo dà mai quando lo voglio io per esempio o si muove a metterlo ok si è fermata vai 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 raga è un attacco un botto bello questo fermiamo stacco ci ha distrutto la scintilla no raga tutti contro di me e noi la rimettiamo noi non ci fermiamo noi andiamo avanti continuiamo con la scintilla che colpisce eppure il pecca raga abbiamo ribaltato una partita facendo le tre corone raga questo video era solo per farvi vedere questo mazzo funziona super bene funziona benissimo raga questo mazzo guardatelo bene è questo è questo funziona solo una cosa che dovrei cambiare il tronco al posto di questo e gli spiritelli al posto di questo per me così adesso proviamo a fare un'altra partita per me così dovrebbe essere il drago l'ho lasciato ovviamente ecco prima mi è capitato questo questo e questo tutti insieme quindi ho potuto fare così il pecca lì e poi ho messo la roba l'altra quella che dovevo mettere comunque e poi metteremo il drago perché se lui mette qualcosa dall'alto io mi dico e come facciamo ovviamente 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 lui ha messo quello lì nel mezzo eh raga non so se ce la faremo ti prego colpisci la torre se colpisci la torre mamma mia ha colpito la torre siamo contenti benissimo drago e barile goblin per esempio aspettiamo il pecca lasciamo colpire un po' e dopo andiamo a colpire dall'altra parte ovviamente perché questa torre ormai è fatta adesso se io metto la scintilla di qua tipo qua lascio colpire poi metto che ne so forse devo tenermi la fireball perché se incontro questo tipo di mazzo qui come faccio a fargli quella blu oddio è vero raga aspetta bam si ce l'ho fatta poi questo lo mettiamo qua e dobbiamo mettere subito pecca raga subito subito immediatamente raga non colpire il moschettiere bravo bravo però quella la puoi colpire assolutamente assolutamente no raga ho sbagliato no adesso mi colpisce la scintilla cioè me l'ha distrutta proprio in quel momento cioè in quel momento cioè mentre si vabbè vabbè raga questo gioco non ha senso mettiamo tipo il tronco che lo so io per fare dei danni ma non non abbiamo mettiamo di nuovo la scintilla si continua così raga è strafalloso sto mazzo perché te metti la scintilla lui si stanca dopo un po' te li metti sempre con la scintilla lui si stanca fate tranquilli raga qua se pensiamo noi noi siamo i più forti del gioco non è vero non è vero mai non è vero mai ti metto un'altra scintilla sai tanto per ok va bene abbiamo fatto due oh mia quanti siamo tre quanti siamo tre ok ok forse oppure scambia ovviamente no non te lo scambio neanche questo aspetta ti prop... oh aspetta no gli arcieri ah non potevo comunque richiedi tipo io voglio questi no intendo scambia io voglio questo e ti posso sudare le carte che si usano di più sono no anzi mettiamo tipo no non c'ho più un mini pecca devo mettere questo qui chi metto chi metto raga cerbottaniere mega sguerro e fireball ma che ne so io proviamo magari qualcuno me lo scambia ok soglia sbloccata apriamo e chiudiamo il video perché basta vi volevo solo far vedere questo mazzo raga che è forte 11 fornaci vabbè basta fornaci anzi dobbiamo migliorare subito le fornaci perché ce l'ho livello 9 quindi mi da un voto di quanto mi da aspetta voglio vedere grazie